Una giornata come le altre. Se chiedi al personale militare dell'aeroporto Antonio Ramirez di Gioia del Colle, ti rispondono così. Ordinaria amministrazione, lo stato d'allerta, c'è sempre. Eppure, Gioia è tra le sette basi messe a disposizione dal governo italiano per l'operazione Odissea all'Alba, scattata sabato scorso nei cieli della Libia con il ride degli aerei francesi diretti verso le forze fedeli al colonnello Gheddafi. Certo, i Typhoon e gli Eurofighter dei due gruppi di volo ospitati dalla base non sono ancora stati chiamati in azione, ma il comandante della base ostenta una certa calma, forse apparente. Lo stato d'allerta della base è praticamente quello normale che utilizziamo tutti i giorni dell'anno, praticamente stiamo garantendo il servizio di sorveglianza a spazio aereo. I libici non avrebbero alcun tipo di armi in grado di attaccare il territorio nazionale, c'è conferma da parte vostra? Beh, questo non sono titolato a rappresentarlo, ma comunque ritengo che le parole del Presidente Berlusconi siano derivanti da informazioni accurate. Il nostro ruolo fondamentale è la difesa aerea, quindi noi siamo a difesa del territorio e, come ho detto prima, Nato e quindi di conseguenza nazionale. Un ruolo di controllo e difesa dunque, ma non di attacco. Per quel ruolo ci sono i tornato delle basi di Ghedi e Piacenza, rischierate a Trapani, che già nella giornata di ieri hanno compiuto le prime missioni su Benghazi. Di certo, parola del Ministro della Difesa inglese Liam Fox, nei prossimi giorni qua faranno base agli aerei britannici che dovrebbero fare qualcosa di più che osservare le mosse delle truppe governative libiche, con il pieno supporto logistico dei nostri militari. Siamo in attesa di disposizioni e di richieste, ci stiamo predisponendo a tutte le venienze e siamo in attesa di ricevere disposizioni dalla nostra linea gerarchica, quindi non escludo la possibilità, ma comunque per il momento ancora nulla è stato deciso.